buonasera a tutti stasera faccio un video in italiano e quello che vi mostro è una ditta cinese la compagnia è la chiusan è una compagnia originale che fa coltelli originali la produzione linea produzione cinesi ma di qualità è veramente veramente elevata quello che siamo di fronte è un frame lock in titanio fatto veramente con tutti i crismi con apertura flipper e in movimento assicurato da generosi washer in bronzo o rame perché sia bronzo più facilmente molto leggero molto versatile veramente veramente interessante la lama è un di due è un acciaio carbonioso molto duro che tiene molto bene il filo anche se è molto delicata per quanto riguarda l'ossidazione venire incontro a questo problema di questo tipo di acciaio assicurato a questo tipo di acidificazione o passivazione che ha avuto la lama che è molto 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 bella pagante perché è un continuo del del trattamento che ha avuto il titanio del frame del scusate del del manicatura e è un la colorazione che ho avuto leggermente viola io spero che o blu astra spero che si possa vedere bene l'anodizzazione che ha avuto questo coltello è molto molto interessante ripeto un coltello molto elegante la forma è molto accattivante è una forma originale però che prende ispirazione da coltelli veramente famosi molto molto bello vediamo un po il peso il peso di questo coltello e di soli 111 grammi veramente interessante la misura e le misure di questo coltello sono quasi 9 centimetri di tagliente per una misura complessiva di 19 da 19 20 19 totale molto leggero molto 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 trasportabile un buon idc vediamo se riesco a darvi anche le dimensioni dello spessore questo coltellino misura di spessore 3.17 mm molto molto bello io penso di inserirlo fra gli elegant folder sicuramente oltre interessante io consiglio ovviamente chiunque pensarci seriamente per l'acquisto con questo è tutto signori e come sempre alla prossima se volete lasciare un messaggio qualche richiesta di informazioni maggiore o se queste immagini vi sembrano non sufficienti commentate qui sotto io cercherò di capire in base anche le vostre esigenze se possono coincidere con le mie e di conseguenza magari cambiare anche modo di fare questi video niente nient'altro alla prossima e come dicono alcuni videomaker britannici o americani stay sharp e vuol dire anche al doppio senso di stato d'accordo ciao a tutti ragazzi